Presentiamo oggi la nostra stagione Sinfonica 23 e 24. È una stagione a cui teniamo particolarmente perché nel 2024 l'orchestra compirà 30 anni. Era il 1994 quando un gruppo di strumentisti, tra cui il sottoscritto Saul Salucci violoncellista, si mise assieme per fare della musica appunto di insieme. Da lì nacque l'orchestra e oggi arriviamo a questi 30 anni e presenteremo una stagione davvero straordinaria, un po' perché è un evento particolare il trentesimo compleanno, un po' perché dal 2022 e solo oggi possiamo mettere a terra i finanziamenti che ci sono arrivati, abbiamo ottenuto il riconoscimento di istituzione concertistica orchestrale dal Ministero della Cultura. E quindi una stagione maxi, 10 eventi di grande profilo, l'avvio di due cicli importanti, quello dedicato alle sinfonie di Beethoven e al compositore Brahms, la conferma di tutto il reparto artistico, quindi il maestro Paolo Rosetti, direttore per l'area artistica, il maestro Daniele Agiman, direttore principale, e una novità assoluta, il maestro Riccardo Bisatti come primo direttore ospite. Confermatissimi anche il maestro Noris Borgoggelli alla formazione, Roberto Molinelli, compositore, Daniele Comitini pure, e quindi 10 appuntamenti che partiranno il 9 dicembre con il concerto di Natale e poi il primo gennaio con il primo concerto nel 2024 di Pesaro Capitale. Sono felice e onorato di aver ricevuto questa nomina in questa bellissima orchestra con cui mi sono trovato molto bene quando sono stato invitato. Per me è un grande onore, anche per dei programmi veramente impegnativi, ma di musica sinfonica molto importante, che affrontarli è sempre un onore e un piacere. Anche quest'anno un repertorio che spazia dal 1600 ai giorni nostri, spazia dai generi più classici, cosiddetti, il grande sinfonico, l'opera lirica, i compositori italiani, i compositori stranieri, il pop fino al musical che ha debutato l'anno scorso, ha riscosso talmente tanto successo che siamo stati costretti, tra virgolette, con grandissimo piacere a replicare anche quest'anno un titolo nuovo, francese, Moulin Rouge, e artisti internazionali, Leonora Armellini, che è una pianista per la quale ho una particolare predilezione e siamo onorati di averla nel nostro importantissimo concerto di Capodanno. Insomma, una stagione, credo, da non perdere.